Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, ultimi provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie. Resta ancora da sciogliere il nodo spostamenti con alcune regioni che vanno al braccio di ferro con il governo. De Luca intanto chiude alle seconde case. Punto sul Covid nel Vesuviano, scendono sempre di più le positività, ieri a Torre del Greco registrati solamente due casi, mentre cresce il numero dei guariti. Ancora molta confusione per le festività natalizie tra DPCM e nuove ordinanze regionali, abbiamo ascoltato la voce dei torresi. Infine spazio allo sport con la Turris che dopo la sconfitta per 3-1 a Catanzaro cerca i tre punti a Liguori contro il Teramo. Questo ed altro, guardiamo i servizi. De Luca chiude alle seconde case, mentre il governo apre agli spostamenti. Sono ancora in corso di discussione gli ultimi provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie. Resta ancora da sciogliere il nodo spostamenti, con alcune regioni che vanno al braccio di ferro con il governo, per allentare le misure previste ad oggi nei giorni festivi. Nel prossimo DPCM, che entrerà nei vigori in vista della festività natalizie, infatti sarebbe prevista la limitazione degli spostamenti tra comuni, nei giorni 25-26 dicembre e 1 gennaio. Nelle ultime ore, però, si registra un'apertura da parte dell'esecutivo, all'ipotesi di lasciare liberi gli spostamenti tra un comune e all'altro, anche nei tre giorni precedentemente indicati. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, starebbe pensando di introdurre delle interpretazioni estensive delle situazioni di necessità che giustifichino dal proprio territorio comunale. Per quanto concerne la campagna, arriva un nuovo provvedimento da parte del governatore Vincenzo De Luca, al fine di evitare quanto più possibile il contagio e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i comuni. L'ordinanza numero 96, pubblicata nella giornata di ieri, prevede controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della campagna e all'aeroporto di Capodichino e di vieto di spostamento, per il periodo festivo, nelle seconde case anche in ambito regionale. Un provvedimento più restrittivo rispetto a quanto previsto dalle disposizioni governative, che regolano il flusso degli spostamenti in base al colore delle aree stabilite dal Ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso 4 dicembre. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità, si afferma in una nota della Regione, per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio. 6 guarigioni sono state registrate nella giornata di ieri a Torrella Greco, certificati anche due nuovi casi di positività al Covid-19 in isolamento domiciliare per uno dei quali si tratta di ricontaggio. Attestato un decesso, la cui positività al virus è stata accertata post-mortem. Continua così a mutare il bilancio dei contagi nella città, che ora conta 475 attuali positivi, di cui 29 ospedalizzati, 1.704 guariti e 53 decessi. A Castellamare di Stabia i cittadini guariti superano nuovamente i nuovi casi positivi. Sono 18 i soggetti risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri. Solamente 4 di essi risultano avere sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ci sono un 87enne ed un 85enne. Dichiarate guarite 23 persone, tra di essi un 73enne ed un 63enne che sono stati dimessi dal Covid Hospital di Bosco 3 case. Sono, quindi, 1.517 gli attuali positivi, 1.012 guariti e 27 deceduti. Ulteriori miglioramenti nei dati epidemiologici a Portici. Diminuisce il numero dei positivi al Covid-19 in città. Nei giorni dal 4 all'8 dicembre si registra un numero di tamponi effettuati ai cittadini di Portici pari 875 con un esito di nuovi contagiati pari 81. La percentuale di positivi sul numero di tamponi si abbassa al 9,2% con un numero di guariti, 145, di gran lunga e superiore al numero di nuovi positivi. Continua a scendere la curva dei contagi sul territorio di Arcolano. Dai dati forniti all'ASL emerge che i cittadini risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri sono 564, diminuiti rispetto ai 580 dei giorni precedenti. Infatti, a fronte di in 4 nuovi casi, sono stati comunicati ulteriori 20 soggetti guariti, per un numero totale di 1.192 cittadini che hanno superato il virus. Campania verso la zona gialla e festività natalizie, nuova ordinanza di De Luca che vieta gli spostamenti verso le seconde case. Scelta giusta o sbagliata? Penso che sia una scelta sbagliata alla fine, perché la zona gialla, come disse già De Luca, con la zona rossa era una zona rosè. Comunque possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma comunque ci troviamo a fare assembramenti. I torresi questi siamo, spero soltanto che questa volta siano un po' più ragionevoli e siano più attenti. Quindi quello che chiedi è maggior umanità e senso di responsabilità delle persone? Certamente, perché altrimenti secondo me ci ritroveremo a gennaio, febbraio, di nuovo con zone rosse, chiusura, coprifuoco e ci ritorneremo a lamentarci di tutto. Tu personalmente come passerai le tue vacanze di Natale? Le passerò a casa e a festeggiare fuori dal balcone. Io e i miei familiari, i miei genitori e basta. Questi saranno i miei festeggiamenti. Giustamente in questi periodi qua l'economia torresa era basata certamente sul discorso di consumismo praticamente. I negozi si sa che loro hanno ragione a capire che la restrizione che ha fatto De Luca non perché non siano fatte bene, ma purtroppo c'è proprio questo tipo di discorso che la pandemia ci sta attaccando continuamente. Noi con le restrizioni che stiamo vedendo in Italia non mi va bene solo il discorso che tra comuni e comuni ci portano a una confusione totale che noi non sappiamo ancora se io per spostarmi anche commercialmente a comprare qualcosa da un posto attaccato a 3-4 km che funzione ha questo fatto di restrizione. Quindi lei chiede maggior chiarezza prima di tutto da parte del governo e soprattutto chiede ai cittadini un ultimo sforzo e non lasciarci trascinare dalle feste natalizie per non incorrere in danni subito dopo le festività all'inizio del nuovo anno. Oggi diciamo che la gente è stufa di assistere tutti i giorni a delle regole nuove. Allora purtroppo stiamo quasi agli scoccioli per il Natale quindi la gente ormai non si rende conto nemmeno più il Natale se ha voglia di festeggiarlo, di prendere atto di tante cose della vita quotidiana che si portava prima avanti. Quindi stiamo in una confusione totale tutti quanti. Speriamo che il nostro Signore ci aiuta, ci protegge, ci limita da ogni pericolo, da ogni corrominus e che ci passiamo un santo Natale, un santa pace all'anno nuovo. La Turris è la ricerca del riscatto dopo aver perso l'imbattibilità record in trasferta che durava da oltre 570 giorni nella sconfitta contro il Catanzaro. La squadra di Fabiano insegue inoltre un successo all'Americo Liguri che manca addirittura dal 7 ottobre, era appena la terza giornata e di Coralini vince per 2-1 contro la Viterbese. Ci sono dunque le giuste motivazioni per provare l'assalto alla vittoria tra le Muramiche nel match di programma domenica alle 17.30 contro il Teramo. La compagine abruzzese è riduce da due pareggi di fila contro Vibonese e Virtus Francavilla e dalla sconfitta esterna per 3-0 in casa della capolista Ternana. Nonostante il digiuno dei tre punti da poco meno di un mese, il Teramo è al terzo posto nell'aggruppamento con 25 punti nelle 13 partite fino alle disputate, con il merito di avere la seconda miglior difesa del Giro di C. Non un avversario semplice per la Turris che d'altro canto vuole confermarsi come la miglior sorpresa del girone e ritornare a vaccinare punti pesanti. Finalmente potrebbero rivedersi Persano ed Alessandro che nelle scorse settimane hanno patito alcune noie fisiche. Ottimismo anche sulle condizioni di Romano che dovrebbe recuperare in vista della sfida di domenica pomeriggio che sarà arbitrata dal direttore di gara Valerio Maranesi di Ciampino, coagliuato dagli assistenti Votta e Dell'Orco. Possibilità per gli uomini allenati da Franco Fabiano di darsi slancio in vista dell'ultimo tour de force prima della sosta natalizia che vedrà la squadra di Torre del Greco fronteggiare nei due impegni ravvicinati la capolista in solitaria ternana e la cavese nuovamente in casa. Impegni che uniti alla partita contro il Teramo costituiscono un trittico complesso quanto importante per accimolare altri punti chiave per il discorso salvezza, da sempre obiettivo esplicitamente dichiarato da parte della società. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend. Grazie per la cortese attenzione.